Dice papà, ho conosciuto una ragazza che mi piace tanto, però c'ho un problema, non riesco a provarci con lei, ogni volta che c'ho l'avanti mi blocco, non so che fa. Dice, vedi figliolo, per conquistare una ragazza, prima di tutto la devi fare tanto ridere, poi una parola dolce, una carezza, e la devi guardare nell'occhio. Il giorno appresso il papà è un po' preoccupato, va dal figlio, dice, allora questa ragazza com'è andata? Dice, papà la sono andata a prendere, mi ha invitato a salire su da lei, siamo stati in camera, l'ho fatta ridere, l'ho fatta tanto ridere, poi una parola dolce, una carezza. O io, lei mi guardava, io la guardavo, lei mi guardava, io la guardavo, a un certo punto ce l'ho spostata una mutanda e mi ha fatto l'amore. Dice, lo vedi che ci voleva poco a superare sta cosa? Dice, sì papà, ma sai che è successo dopo? Stavamo lì che stavamo a fare l'amore, lei va e metti, metti, metti e leva, lei va e ne è entrata la madre. Dice, come è entrata la madre? Zitto va, mi è venuta vicino, io la guardavo, lei mi guardava, io la guardavo, lei mi guardava, a un certo punto ce l'ho spostata una mutanda pure a lei e mi ha fatto l'amore. Dice, papà, ma fosse solo quello, stavamo lì che metti e leva, leva e metti, metti e leva, leva e metti e ne è entrato il padre. Dice, il padre, che è successo, è un casino, dice, zitto va, mi è venuto vicino, lui mi guardava, io lo guardavo, lui mi guardava, io lo guardavo, a un certo punto se l'hai girato, tu colpi, ce l'ho dargli pure a lui. Pure al padre, gli sei fatto zitto, papà, stavamo lì, lui mi guardava, io lo guardavo, lui mi guardava. A papà, a papà, mamma, stai a guardare? No, papà l'ascolta solo. Pure al padre.